amici di alessano tech world video che sto girando in full hd con il nuovo elephone p6000 alcune funzioni di riduzione rumore sono attivate andiamo a riprendere un attimo una macchina vediamo se va via fluida andiamo a fare una panoramica così magari mi soffermo un attimo guardate la qualità della dell'immagine dopo ritornerò sulla lavanda così almeno vediamo anche da vicino come rende la fotocamera ora passiamo un attimino qui e ora torniamo sulla lavanda e vediamo come è la qualità dell'immagine la display non è malvagia stiamo parlando di uno smartphone da 140 euro circa quindi non possiamo pretendere chissà che cosa andiamo un attimo qui non ho tappato nulla ha messo tutto fuoco da solo se l'ha messo chiaramente ecco adesso ho messo fuoco io quindi tap focus che devo dire funziona abbastanza bene ci rimettiamo qui in posizione e non rimette a fuoco quindi devo rischiacciare io però devo dire che il prodotto funziona funziona molto bene dai per questo video è tutto